Ringrazio in particolare la dottoressa Bracco, la dottoressa Moratti, il dottore Tinelli, quindi la fondazione Illy San Patrignano e la fondazione Bracco per essere qui e supportare questo progetto che è iniziato in Francia, quindi con il movimento positivo nell'economia, supportato anche dal Presidente della Repubblica Francese. Quello che si vuole proporre sono delle soluzioni a lungo termine, su scala globale, quindi per poter supportare le famiglie, i bambini su una base globale. L'obiettivo è quello di guardare a lungo termine per portare avanti questi progetti, quindi ringrazio le organizzazioni e le istituzioni che stanno permettendo questo importante ed ambizioso progetto. Questo movimento è iniziato un paio di anni fa, non lontano da Parigi a Le Havre, con l'intenzione di coinvolgere molti soggetti come le organizzazioni non governative, istituzioni governative, cooperative e diversi movimenti. È iniziato appunto come movimento per l'economia positiva e il dottor Rattali è presidente di Planet Finance e vuole appunto provvedere al supporto di tutti i soggetti economici prima menzionati e con lo scopo quindi di migliorare l'economia globale, in particolare sviluppare anche il settore lavorativo sviluppando appunto il settore del lavoro. In quale modo vuole optare per queste scelte? Con un'economia di tipo sostenibile, quindi a livello sociale, politico, introducendo delle nuove procedure che coinvolgono tutti i soggetti a livello globale in tutto il mondo. Quello che stanno cercando di fare è appunto network, coinvolgere più soggetti, più partner per coinvolgere soggetti sociali ed economici, il mondo accademico, la società ed è onorato del fatto che questo progetto ambizioso inizi proprio in Italia, anche se il progetto prevede degli incontri a Singapore, a Montreal, per sviluppare appunto questo movimento a livello mondiale. Questo movimento vuole chiarire che non è solo accademico, ma vuole coinvolgere appunto tutti i soggetti ad ogni livello. Quello di cui si preoccupa in modo particolare è la generazione futura, per questo la necessità di considerare il tutto a lungo termine, perché se non riusciamo a coinvolgere, a fare un progetto a lungo termine per le generazioni future, la società diciamo cadrà in una sorta di frustrazione. Invece noi ci vogliamo liberare da questa frustrazione e dalla crisi quotidiana che si sperimenta giorno per giorno. E per attuare un'economia sostenibile sia per i francesi che per gli italiani, dobbiamo appunto iniziare a costruire il nostro futuro. Il progetto è per i prossimi 30 anni, quindi bisogna considerare i singoli paesi, ma l'Europa in generale. Le decisioni che vengono prese giornalmente, ad esempio dalle persone, e per attuare un'economia positiva bisogna focalizzarsi su decisioni prese giornalmente. L'obiettivo è il miglioramento della generazione futura e quindi un progetto a lungo termine.